ok ho sincronizzato come si saliva sopra aspetta me ne mancano 11 di stelle raga non ci sono lettere e palle luigi lascio no dovremo andare in giro a recuperare le 11 stelle a una volta è capitato tutti questi giorni mi sono alzato alle 9 10 una volta che ho fatto schifo e lo dico da solo aspetta posso fare lui è 315 ma da come prende ma questa è il mirale la felice scoppia stasso un nastello la calassia lacrima è la mia galassia via grazie ok pesci grossi vabbè io mi dissocio però ci sono dei nomi un po' fai intendibili siamo sotto Huckwing oh no i pinguini del cazzo che fai tu te il giro ciao oh non c'è dopo che sono apparsi quei pesci boagiganti non abbiamo più preso pesci di vostro ignora ignora oh cazzo come si saliva aspetta aspetta c'era un forze herring c'era un forze herring però Mario vai oh dove cazzo vai Mario ma prendi quello un altro ma no 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 devo dire cazzo vai forse li devo ammazzare tutti oh oh che cazzo sta puntando che cazzo è un siru ring oh 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 non si rula al culo no no ok oh si ma oh è cagato la minchia vabbè vabbè ma chi cazzo è che spara sti missili uccidere il pesce dai quanto veloce è vabbè vabbè dai che giro della minchia vabbè fai però eh e vabbè 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 C'è un po' di creciplà animato. Vabbè dai. Eh vabbè. Oh 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 oh. Oh oh, si lo ringer. Ma se io scuoto lo lancio. Cazzo. Dove sono quei pesci di merda? Oh, ne ho visto uno. Oh oh. Mi distacco. Ecco. Perché sono morto? Se io faccio così partono. Ok. Ok, se scuoto partono. Vi vediamo dove stanno sti pescing. Dove sei? Dove cazzo va? No vabbè. Sei rincoglionito. Ho il guscio rincoglionito. E' meglio nitting. Mi ha un... Poter simulator. Ma è cretini il simulator. Ma cosa? Come fa ad andare là? No vabbè. Come fa ad andare là? E' un colpo preciso. Mi servono quelli rossi. Di 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 di. Cremon. Voi non mi aiutate. Non state per niente aiutate. Mario. Mario. Mario giù. Mario. Ecco il pesce qua. Il pesce qua. Pio pesce. Pio pesce. Cazzo si. Fortissimo Mario. Bus e se ho dubitato di te. Meglio quello. Ne manca uno in teoria. Ultimo pesce. Facciamo così. Saliamo sopra. Eccolo. Eccolo. No. Vabbè è andato. È andato. È andato. Mario è andato. Mario che cazzo mi convini. Eh l'ho capito. L'ho capito. Se muori adesso. Cazzo. No. Doppio missile pure. La mandata di 40 missili. Mi hanno mandato. No. Cazzo no. Accanto. Corri. Corri. Dove sono tutte le monetine che ho visto per mezz'ora? Eccolo. Faccio un cosiguscio. Dove si prenderne uno, sì. Bravo Mario. C'è riuscito a venire in faccia il pesce. Sì. Sì. Sta per partire. Stai lasciando mi stare Vabbè No, effe cazzo Sì, ma guarda Deve sbattere Oh, uno Poi l'altro Due Sono OP, cazzo Sì, devi prenderlo Devi prenderlo, Mario Prendi Gush, sì, vai Dov'è l'ultimo Andiamo giù Vai su Eccolo Ho visto, ho visto, ho visto Guarda lo stronzo Ma dove cazzo Spari Mario, 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 Mario Ah Questa Aurora che è munita Vabbè Eccolo Eccolo Addio Ma scoppia Oh, cazzo Sicurano No, basta pastiglia da culo Non voglio la supposta Lasciatevi stare No, nulla No, nulla Dicevi Vfavi Non ti preoccupare Ring Dove cazzo è la stella Dove cazzo è la stella ora E siamo a dieci mancanti Oh, cazzo è la stella Oh, sì Ho fatto tutto Mi sa che c'è Il mini Bowser da fare Andiamo a caccia di Luigi Mi sa che ci facciamo proprio una Delle extra sul Mario In qui facciamo tutte le missioni Per recuperare Luigi Mamma Ciao Era qua, giusto? Ciao Sì Era qua Col cazzo che faccio circuito oceanico Ah Pure la mia ex faceva così Eh, purtroppo a volte fanno così Lo fa Lo fa Lo fa La galassia balocco È vero Dobbiamo continuare quella Niente Ci tocca Ci tocca questa Questo livello di merda Questo livello di merda La mia ex faceva è la tua La mia ex faceva è la mia ex Questa è la mia ex va famos no ok Ma potresti recuperarla qualche moneta? Grazie. Lo so che lo diate quanto ho messo di bello. Ma allora? Guarda che mira! Wow! No! Che cazzo fa... Oh! Vabbè. Io sono uno stronzo! Oh! Sì, sì! Alla prossima no faccia mi stare lasciami stare cazzo fine da parte ah devo prendere quella roba ma può fare sempre così sto coso ora muoio ora muoio cazzo sì buon lavoro salvo e grazie ancora il supporto ci sentiamo alla prossima guardate quando volete pure passa la disco soprattutto l'estate beccate sempre io sono fortissimo ok siamo sul robot dai ciao ellison come stai mi a mi o ok ok ho fatto che c'è l'unica Non dico a te, di serbato. Comunque è figa sta cosa che lo stiamo smontando, il robot. Ok, il problema avviene dopo. Vieni. Oddio, vaffanculo, oggi sono carico. Carico di vendetta. Dai. Dai, c'è l'inco, io ne sto. No, poi riesco a ucciderlo. Oh. Uff. Merda. Comunque sì, il telefono soffre del caldo. Vabbè, ma non si fa così. Eh sì, ma potevo andare anche... ma non si fa così. Oh. 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 Va! Assole! Ma ci bestemmio. a me non distrutto qualcosa dai come cazzo ha fatto a prendere solo una parte non ci credo questa è la più grande sfida del mondo è cantare con sta roba facciamo così prendiamo in corso oh cazzo si grazie grazie 101 davvero ho fatto 101 stelle e il destino il destino il 101 è il mio destino mia è sempre presente è un cazzo di anatema